Marcello era un programmatore informatico, nato e cresciuto circondato dalla tecnologia, per via di suo padre docente universitario presso una facoltà di ingegneria informatica. Con il passare dell'adolescenza, la scelta di proseguire con lo studio in ambito informatico fu quasi una normale continuazione del percorso. Esame dopo esame, Marcello si laureò con 107 su 110, quasi il massimo dei voti. Passati pochissimi giorni dalla sua laurea, Marcello non riuscì a riposarsi un attimo che ebbe già la chiamata di tre grosse aziende. Marcello, dopo i suoi successi accademici e la sua padronanza della materia, non avrebbe avuto nulla da temere. Dopotutto era un colloquio conoscitivo e l'azienda era consapevole che Marcello non avesse esperienza, sarebbe stata l'azienda stessa a doverlo formare professionalmente. Nonostante ciò, Marcello fu preso da ansia e sconforto, una sensazione mai provata fino a quel momento a cui non era abituato. Dopo aver preparato per un paio di settimane il primo colloquio, arrivò il fatidico giorno. Marcello giunse in sede, incontrò il suo futuro manager e iniziò il colloquio. Dopo qualche domanda tecnica prima e conoscitiva poi, Marcello terminò il colloquio con una sola consapevolezza. Era stato un disastro. Tornando a casa, chiamò casa, avvisò i genitori che il colloquio non fosse andato bene e che avrebbe dovuto prepararsi meglio. Il giorno seguente, la chiamata del manager. Sei stato selezionato fra venti candidati. Se ti va, puoi iniziare a lavorare dalla prossima settimana. Marcello era stupito, incredulo. Non poteva credere alle sue orecchie. Chi avrebbe mai pensato che con un colloquio così disastroso alla fine sarebbe stato assunto? Marcello alla fine accettò la proposta di lavoro con un misto fra eccitazione e paura. Il primo giorno di lavoro entrò nell'ufficio con un nodo in gola. I colleghi sembravano tutti così competenti e sicuri di sé, mentre lui si sentiva completamente fuori posto. Nonostante fosse stato assunto per le sue competenze e conoscenze, Marcello non riusciva a liberarsi dalla sensazione che il suo successo fosse solo un colossale errore. Nei giorni seguenti, mentre si immergeva nei progetti dell'azienda, la sua sindrome dell'impostore peggiorava. Anche piccoli errori o dubbi lo facevano sentire inadeguato. Marcello lavorava ore extra, temendo che qualcuno scoprisse che non era all'altezza. Un giorno, durante una riunione importante, Marcello presentò un progetto su cui aveva lavorato instancabilmente. I colleghi lo applaudirono per l'innovativo approccio, ma lui non riusciva a sentirsi soddisfatto. In quel momento, l'amministratore delegato dell'azienda, un uomo di grande esperienza, chiese di parlare con Marcello a quattro occhi. Nell'ufficio dell'amministratore delegato, Marcello si aspettava il peggio. Invece, l'amministratore delegato iniziò a raccontare la sua storia, rivelando che anche lui, all'inizio della sua carriera, aveva sofferto della sindrome dell'impostore. Condivise consigli su come aveva superato tali sentimenti, enfatizzando l'importanza di accettare e imparare dai propri errori e di non essere troppo severi con se stessi. Marcello ascoltò con attenzione, sentendosi per la prima volta veramente capito. L'amministratore delegato propose a Marcello una sfida, lavorare su un progetto ad alto rischio, ma anche ad alto potenziale, con il supporto di un mentore. Mesi dopo, sotto la guida del mentore e con il sostegno dell'amministratore delegato, Marcello portò a termine il progetto con successo. Questo risultato fu una svolta. Iniziò a riconoscere il proprio valore e le sue abilità, rendendosi conto che la perfezione non è necessaria per essere un ottimo professionista. La storia di Marcello diventò di ispirazione all'interno dell'azienda e lui stesso iniziò a fungere da mentore per altri giovani impiegati, condividendo la sua esperienza con la sindrome dell'impostore e aiutandoli a superare i loro dubbi. La sua storia dimostrava che la vulnerabilità e l'accettazione di sé sono forze, non debolezze, nel viaggio professionale e personale. Grazie per la visualizzazione. Se non è un problema, supportaci iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale.